A Dio Ida, non ha niente di speciale, però con quell'aria abbastanza sua, abbastanza fine, no? Però con quella tenuta un po' da... Qua tenuta un po' ambigua, capito? Cioè, era una ragazza abbastanza ortologata, raffinata, no? Però con una faccia da paraculo propria, capito? A un certo punto me fa... Dice che ti dispiace prende impermeabile, come metti sulle ginocchia, dice così, io me ci posso stendere bene. Io ho piato il giacotto, me lo so messo sulle gambe così, questa si stende così, guarda, oh, così. Eh ma stai attento, dai! Non ti preoccupare, abbi febri! Ma come abbi febri? Abbi febri! Mi sa stende così, a un certo punto me sento sui carzoni avanzati, proprio come una mano, no? Che cosa che era? Era una mano era, a sua, no? Che piano piano saliva, arrivata fino a quanta... Ah, cerniera, a un certo punto me sento, la lampa proprio che scerneva giù. Ah sai, indovina un po' come gli dà finì? Indovina un po' come gli dà finì? Eh, te la sarai fatta, non lo so io. Mi ha fatto una seduta stante! Maggello! Voi sai che mi ha fatto quasi bene? Voi sai che a vedere proprio una dei sedici anni, proprio ridotta così, cioè, ma... Cioè, mi ha fatto un... Non so, mi sono rimasto male, proprio. È proprio vero, proprio, che la situazione di sti giovani oggi, di sti ricazzetti, sti ricazzetti, è proprio un macello, eh! Sì, sì, è un uomo, perché... Grazie.